Buonasera a tutti, benvenuti e grazie di essere qui nonostante fuori si sia scatenato un fortunale e grazie a chi non ha desistito a questa serata. Per noi la chiusura del calendario estivo, noi abbiamo avuto una serie di iniziative come i musei civici quest'estate che ha coinvolto sia Palazzo Tozzoni che la Rocca Sforzesca ed è l'ultima giornata, è l'ultimo ingrediente di questo calendario estivo e poi passeremo insomma alla programmazione autunnale, invernale eccetera. Chiudiamo con un personaggio molto caro a Imola e lo facciamo perché come avrete probabilmente visto tutti qui nell'appartamento stile impero abbiamo collocato nella prima sala il dipinto che normalmente è posizionato in un luogo della Rocca Sforzesca. Un dipinto a mio avviso meraviglioso che io e Riana abbiamo un po' approfondito in questi mesi e abbiamo trovato molte caratteristiche interessanti e abbiamo deciso di valorizzarlo quest'estate sin da maggio quando abbiamo fatto le giornate dedicate a Caterina Sforza l'abbiamo collocato qui e abbiamo fatto un piccolo focus, un approfondimento su questo dipinto a mio avviso davvero davvero pregevole. È un dipinto che ci mostra una Caterina Sforza particolare ma ci arriveremo, ci arriveremo probabilmente alla fine di questa chiacchierata chiacchierata che va a parare proprio su questo, cioè sul volto di Caterina Sforza il titolo il vero volto di Caterina Sforza è anche un pochino provocatorio perché esiste un vero volto di Caterina Sforza, cioè noi se parliamo di vero volto immediatamente pensiamo qual è, quale doveva essere il volto fisiognomico proprio di Caterina Sforza e questo diciamo è un'interpretazione, ma il vero volto può essere tante cose qual è il vero volto? Il vero volto è l'immagine che Caterina Sforza che qualsiasi personaggio storico ha voluto tramandare di sé e questa immagine che ha voluto tramandare di sé necessariamente corrisponde alla sua vera immagine all'immagine di tutti i giorni? Non solo, scopriremo in questa carrellata che poi Oriana e poi insieme a me insomma portiamo avanti, scopriremo come i volti dei personaggi storici i veri volti, i presunti veri volti, cambino nel corso della storia, no? I veri volti cambiano in base alla sensibilità dell'epoca storica vedrete come cambia l'impostazione di volta in volta l'immagine di Caterina Sforza e quindi a un certo punto l'immagine che lei voleva dare di sé probabilmente a un certo punto sfugge, ne sfugge di mano ovviamente perché la storia è un suo percorso, la vita è un suo percorso e quindi ogni epoca storica poi va a cogliere un particolare, un aspetto, una caratteristica che è particolarmente, insomma, che si adatta particolarmente a quell'epoca storica e poi un personaggio storico come Caterina Sforza ha voluto tramandare di sé un solo volto o più di uno? Magari col passare del tempo lei ha cambiato idea di se stessa ha cambiato intenzione di comunicazione prima voleva comunicare una cosa, poi voleva comunicare un'altra ed è una cosa che vedremo in questa carellata per farvi un esempio, per farvi capire perché, insomma, dobbiamo pensare a un personaggio storico come Caterina Sforza come un personaggio storico come per entrare nell'attualità come Elisabetta Seconda pensate a Elisabetta Seconda, no? adesso in queste ore stiamo vedendo centinaia di immagini di Elisabetta Seconda personaggio straordinario a suo modo, in qualche maniera, paragonabile a Caterina Sforza con le dovute, insomma, proporzioni ma Elisabetta Seconda, qual è il volto di Elisabetta Seconda? tutti conosciamo qual è il volto di Elisabetta Seconda ma qual è il volto che lei ha voluto, ha cercato di tramandare? qual è la vera Elisabetta Seconda? probabilmente non la conosciamo neanche immaginate quando si insedia negli anni 50, no? cos'è, chi è? è quella dei ritratti ufficiali? quella dei ritratti ufficiali di famiglia? così austera, così volitiva, così impassibile? è quella che nel 55, da poco era regina è stata ritratta da Pietro Arrigoni, per esempio uno splendido dipinto del 1955 su uno sfondo aereo, molto arioso e lei con quest'aria giovane e sognante Elisabetta è questa persona sognante? oppure è è quel ritratto impietoso di Lucian Freud all'inizio degli anni 2000 che va a cogliere impietosamente i segni del tempo che passa nel suo volto oppure ancora, pensate molto più recentemente pensate come cambia anche la volontà dei personaggi è quella che viene tramandata in un video in occasione delle Olimpiadi del 2012 di Londra dove lei si presta a prestare il suo corpo il suo volto insieme a James Bond con un'autoironia che ha spiazzato tantissime persone no? autoironia poi che prosegue che credo abbia caratterizzato quest'ultima parte della vita di Elisabetta II molto interessante questa cosa c'è l'idea dell'autoironia no? tutto ha un senso tutta una logica è probabile che la monarchia inglese abbia bisogno di nuovi codici per farsi accettare per entrare nella confidenza del suo popolo e l'hanno individuata nell'autoironia proprio recentemente pochissimo tempo fa quello splendido video dove Elisabetta II prendeva il tè insieme all'orsetto non mi ricordo come si chiama ecco meraviglioso no? è quello il vero volto della regina guardate quante volte è cambiato il volto di Elisabetta II e lo vedremo lo vedremo in questa carrellata riguardo a Caterina Sforza cercheremo di cogliere un pochino i tratti comuni cercheremo indubbiamente ci sforzeremo di capire quale doveva essere il vero volto di Caterina Sforza ma vedremo anche ciò che lei ha voluto tramandare e vedremo quello che le epoche storiche hanno saputo catturare di questo volto direi che passo la parola a Oriana così iniziamo questa cominciamo mi sentite? sì? cominciamo sì come dice Diego il paragone il parallelo può sembrare riverente o come dire distopico no? come si usa dire adesso tra Caterina Sforza ed Elisabetta II però è molto calzante secondo me perché questa signora Caterina Sforza ci incanta da cinque secoli Elisabetta II ha appena cominciato 70 anni sono pochi quindi dovrà lavorare ancora un po' la sua immagine nel corso degli anni per arrivare a questo risultato e questa signora Caterina Sforza che ci incanta da cinque secoli lo fa anche attraverso le immagini che l'hanno raccontata io abbiamo cercato quando abbiamo immaginato un po' come condurre questo racconto di costruire una sorta di filo narrativo e cronologico rintracciando magari qualche buco ci sarà anche se qualcuno si accorge siamo contenti se ce lo dice però rintracciando quelle che sono un po' i punti capitali i momenti capitali della rappresentazione del volto di Caterina io direi che possiamo cominciare e cominciamo con una cosa abbastanza che ci aspettiamo in qualche modo cominciamo con la medaglistica ovviamente la medaglistica antica è quella che certifica l'esistenza della sovranità in qualche modo l'esistenza di un ruolo che è quello di potere qui siamo diciamo in tempi ancora non sospetti probabilmente qui Caterina è una giovane donna è una bruttissima fotografia me ne scuso ma non ne abbiamo reperita una migliore vedremo poi come cambierà appunto questo volto di profilo ma intanto osservando questo vediamo che è una giovane donna che ha i capelli parzialmente sciolti questo è importante perché il codice della pettinatura ha queste date è un codice importantissimo qui siamo in presenza di una giovane sposa probabilmente ha ancora il capo cinto da una coroncina queste coroncine che io vado avanti nella spiega molto femminile Diego mi permetterai queste coroncine non erano oggetti preziosi erano in genere intrecci di rami di foglie un richiamo alla natura molto potente e si intrecciava a questo piccolo cercine questa coroncina e si intrecciavano i capelli qui una giovane donna che ha questa veste a scollo quadrato che comincia ad andare in voga proprio alla fine del 400 probabilmente è la giovane sposa di Girolamo Riario quindi è arrivata in Imola poi naturalmente il loro viaggio proseguirà verso Roma e ritornerà verso la Romagna in tempi veramente più calamitosi quando alle porte della città soffierà forte il vento della guerra di Cesare Borgia ecco di questa di questa medaglistica dovete immaginare come giustamente dicevo Riana la scritta che scorre lungo il bordo Caterina Sforza de Riario parla chiaro questi erano dei veri e propri manifesti cioè la medaglistica di allora erano dei veri e propri manifesti di propaganda così tutti sapevano chi era Caterina Sforza e non necessariamente e qui scusa un piccolo inciso non necessariamente questa medaglia è stata eseguita e coniata a Imola o a Forlì anzi molto probabilmente sono state fatte o a Firenze o da altre parti su ma poi credo che ci arriveremo su un qualche prototipo su un qualche disegno che circolava no? Probabilmente sì perché naturalmente non era non era non esisteva un conio qui a Imola probabilmente come dici tu o è di ambito toscano o di ambito romano addirittura perché questi sono anni nella quale i Riario si spostano nel meraviglioso palazzo che adesso è un palazzo restaurato recentemente non mi torno al nome ve lo dirò eccola ancora qua siamo invece in ambito milanese sappiamo che più o meno il percorso di questa medaglia viene dalla Lombardia vedete che c'è un piccolo foro probabilmente era appesa questa o a un al collo oppure tu lo sai come venivano usate le monete antiche lo sai meglio di me è vero che venivano bucate perché diventavano degli ornamenti veri e propri quindi può anche darsi che questa medaglia abbia avuto questa questa sorte questa è già diva Caterina Sforzia qui vedete è scomparso sono scomparsi i capelli liberi la pettinatura libera che gli pioveva sulle spalle e da sul capo questo velo era probabilmente un velo sottilissimo trasparente vedete che è arricciato alla base del collo erano raccolti lì i capelli in un'unica grande treccia perché così voleva la moda e perché così certificava il passaggio della fanciulla dall'età diciamo adolescenziale puberale all'età adulta matrimoniale diciamo cambia anche il viso di Caterina qui è un viso indurito se voi ricordate la medaglia di prima per quanto poco visibile perché la fotografia vi dicevo prima non è certo così precisa vedete che qui c'è un profilo dal naso quasi aquilino degli occhi rimarcati con queste palpebre così sporgenti e viene quasi nascosta la fronte voi sapete che la fronte era un elemento di bellezza assoluto a queste date addirittura le donne si rasavano i capelli sulla fronte per poter mostrare un'apertura dell'appunto della fronte molto più ampia per far risaltare gli occhi quindi qui questa Caterina vedete è completamente diversa da quella che abbiamo appena visto dalla medaglia precedente Caterina voi sapete cresce alla corte milanese lei è figlia illegittima di Galeazzo Sforza però viene cresciuta come gli altri figli e viene cresciuta in una maniera diremmo oggi noi molto senza genere non so come dire viene cresciuta come un soldato lei impara a cavalcare impara il mestiere delle armi cosa che gli sarà utilissima poi quando dovrà sostenere una serie di assedi drammatici sia qui a Imola che a Forlì che sarà poi l'assedio capitale che farà finire nelle braccia della legazione pontificia il Ducato Romagnolo e che è esattamente il momento che ritratta nel dipinto che poi vedrete che riusciamo a datare ad annum ovviamente 12 gennaio 1500 esattamente esattamente quando Caterina viene vinta da Cesare Borgia proseguiamo e vediamo anche perché sono tante le cose e questo è molto interessante fra l'altro ecco adesso il museo di San Domenico purtroppo è chiuso ma riapriremo più avanti quando i lavori per il museo archeologico saranno finiti e questa è una medaglia che abbiamo nella nostra collezione numismatica questa è un'opera conosciuta perché è Nicolò Fiorentino è un'opera circa degli anni 80 del 400 vedete che qui Caterina viene rappresentata ancora come una giovane vedete assomiglia di più alla medaglia che abbiamo visto all'inizio ha i capelli sciolti questa coroncina che le cinge il capo ha un profilo più maturo ma la cosa particolare Diego è il retro di questa medaglia qui c'è un emblema molto diffuso nel rinascimento che è quello della fortuna era l'emblema degli este era uno degli emblema degli este magari lo descriviamo perché non sempre guardate che la rappresentazione della fortuna è una rappresentazione molto cavalleresca e il fatto che venga rappresentata nel retro di un personaggio femminile agli storici dell'arte una lampadina la fa accendere perché solitamente si appellano alla fortuna i grandi cavalieri perché sanno benissimo che le loro sorti sono legate anche alla fortuna come diceva Machiavelli virtù e fortuna sono le due le due basi del Signore e questa scritta tibiet virtuti cioè a te e alla tua virtù probabilmente non sappiamo se si rivolge a Caterina o se si rivolge alla fortuna probabilmente è una sorta di offerta di fortuna a Caterina e alla sua virtù probabilmente è questa l'interpretazione la figura è una figura femminile che poggia un piede su un globo tiene in una mano un altro globo che rappresenta la terra e nell'altra un timone sono io che governo il mondo ci dice questa questo emblema e come diceva giustamente Diego era un emblema che era molto legato a diverse case aristocratiche del rinascimento italiano e quindi ha una sua poi continuità perché viene riportato nell'iconologia di Cesare Ripa quasi identico a questo ci sono i bei dipinti di Girolamo da Carpi quindi c'è proprio una tradizione legata a questa rappresentazione tra l'altro forse questa è la medaglia più bella credo di sì forse è la medaglia più bella perché anche questo scollo trattato in questa maniera con questo panneggio quasi classico dove c'è la scollatura è molto particolare però vi faccio contare una cosa lei prima l'avete vista col velo credo che Oriana poi questa alternanza velo non velo ci dice molto in ogni caso qui torna senza velo con questa coroncina con questa catenella anche che scende dalla capigliatura col ricciolo che scende dai capelli e la dicitura cerco di leggere Caterina Sforza Vice Comes Vice Comes De Riario Imola e Forlì Domina evidentemente Riario non era ancora morto no perché muore nel 1488 esattamente è De Riario ma non ha il velo forse puoi dire qualcosa quello vedovile esatto sì qui è ancora la consorte la moglie di Girolamo probabilmente anche un'alta consigliera io così lo interpreto almeno questa scritta che ne circonda il viso e no Girolamo Moriario morirà nel 1488 una morte terribile pugnalato e defenestrato a Forlì questo accade fra l'altro dalla famiglia degli Orsi ma io non c'entro lo dico subito e lei prenderà diciamo le eredini della signoria a partire proprio dal 1488 qui ancora una giovane donna si sposa giovanissima quindi poco più di una bambina questa è un'altra mettaglia anche questa è a casa nostra Diego sai ce l'abbiamo al museo di San Domenico e sono medaglie molto grandi diciamo che il diametro sarà un 14 15 centimetri sono impresanti a bronza fusione questa conosciamo anche il disegnatore fonditore Vittore Gambello detto cameglio e qui c'è esattamente qui siamo nel 1485 dopo il 1485 qui c'è una Caterina più più donna no? posso intervenire a restringere ancora un pochino il campo cronologico? certo abbiamo una Caterina a sforza con il velo della vedovanza probabilmente probabilmente però ancora riporta la scritta deriario quindi è molto probabile che sia attribuibile a un periodo abbastanza ristretto potrebbe essere ragionevolmente fra l'88 e il 90 probabilmente sì probabilmente sì noi mettiamo una data dopo il 1485 probabilmente da documenti d'archivio dalla prima esecuzione però sì è molto probabile che questo velo che le ricopre completamente il capo e che vedete che è come nella prima delle monete è ripreso sulla nuca da questa specie di piccole pieghe che raccoglievano i capelli affinché non sfuggissero proprio al velo e sul retro anche qui c'è una rappresentazione molto significativa qui c'è una vittoria che cavalca questa biga di cavalli alati e calpesta un serpente un enorme dragone voi sapete che il simbolo del riario è il serpente il biscione scusate che forse è la dicitura più esatta e qui c'è questa fortuna e questa vittoria alata diciamo che accompagna il simbolo simbolismi molto maschili eh sì questo devo dire guardate è come torna questo ma sai una cosa che torna nella nella trattatistica coeva Caterina una cosa importante Caterina comincia a essere raccontata mentre lei è in vita e questo è fondamentale perché noi sappiamo che ciò che ci viene detto da diciamo i suoi esegetti le persone che raccontano che scrivono a quelle date sappiamo che lo avevano visto vissuto e quindi la sua figura era una figura molto particolare altrimenti non avrebbe avuto no questa questa importanza tanto da dover essere raccontata vado posso andare no possiamo tornare un attimo indietro voglio farvi notare questo aspetta che non ci vedo grazie che non ci vedevi in questa brevissima carrellata di medaglistica che ha escluso anche altri esemplari perché ce ne sono altri insomma per brevità abbiamo fatto una selezione abbiamo intravisto due modalità di rappresentazione di Caterina Sforza e dobbiamo immaginare che se si tratta di medaglistica sia una modalità assolutamente condivisa con l'immagine che Caterina Sforza voleva mostrare di sé qui con il velo della vedovanza naturalmente ci aiuta a capire probabilmente il periodo storico in cui nasce questa medaglia notate che sarà per molto tempo questa immagine quella col velo ad avere fortuna successivamente ma avete visto che non era l'unica immagine ce n'era un'altra quella che abbiamo visto prima quella da giovane da giovane sposa dirò di più al British Museum esiste una medaglia che molto probabilmente rappresenta che rappresenta Caterina Sforza che la rappresenta senza velo della vedovanza ma che probabilmente è riconducibile a un periodo successivo cioè lei poi si risposa è evidente che per opportunità non si fa rappresentare col velo della vedovanza se si è sposata con un altro uomo e torna a non avere il velo ok quindi c'è un'alternanza che però c'è invece una di queste due immagini che ha particolare fortuna poi successivamente è proprio quella anche perché forse è quella che la rappresenta per ultima in qualche modo noi sappiamo che dopo la morte di Giovanni II De Medici che è il marito diciamo toscano di Caterina lei non si risposa più anche se gli vengono attribuiti plurimi amanti ma questo noi non lo non lo possiamo accertare vado avanti cosa dite e qui siamo arrivati a un dipinto molto famoso questa è la famosa dama dei Gelsomini che viene nella quale si identifica appunto Caterina qui per la prima volta vediamo un dipinto e quindi è un dipinto di una donna elegante angelicata con questi capelli vedete sciolti quello che diceva prima Diego che siamo quindi esatto per rappresentarla in questo volume molto importante sì molto 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 e c'è alle sue spalle una meravigliosa paesaggio è una figura che respira e che non ha più quella eraticità che ha naturalmente la rappresentazione della medaglistica non fosse altro che noi ne vediamo il viso non di profilo ma frontalmente per la prima volta eh sì per la prima volta allora intanto possiamo dire che qui non siamo certi che sia Caterina Sforza e questo va detto cioè tradizionalmente questo è riconosciuto come ritratto di Caterina Sforza o la dama dei Gelsomini io ho una mia idea personale ce l'ho ma non la dico però guardate come come i tratti fisiognomici cambiano c'è quel famoso naso un po' volitivo un po' adunco qui no? non c'è è vero che siamo in un altro contesto siamo nel contesto della ritrattistica Lorenzo Di Credi che notoriamente un pochino di macchiaggio lo faceva sì no ma ci sta ci sta per carità ed è molto interessante che una donna che è stata rappresentata finora almeno per come abbiamo visto noi oggi come una donna di stato di potere no? che invocava la fortuna la vittoria alata qui improvvisamente diventa invece una dama gentile quasi una dama no? della corte che intreccia corone di Gelsomini che regge un cestino con i Gelsomini quindi non è più la guerriera che abbiamo visto finora o meglio non è ancora perché molto probabilmente questa è la giovane è la giovane sposa che non è ancora la guerriera poi che prende sulle sue spalle il destino no? di Imola di Forlì non lo è ancora è una è una giovane di buona famiglia che è appena diventata sposa di Riario molto probabilmente no? le date ci dimostrano questo infatti si vede no? nei tratti molto giovani e poi vabbè si è detto di tutto anche sui Gelsomini e poi anche il nostro mestiere ci si accapiglia no? a cercare di interpretare chi dice che i Gelsomini sono il simbolo della fedeltà coniugale no? che potrebbe anche starci qualcuno dice no? attenzione perché Caterina sforza no? la sua trattatistica le ricette la sua passione per un po' la botanica no? queste ricerche qui e forse questo è un richiamo a queste sue passioni già giovanili non possiamo non possiamo sapere tutto con certezza io vi dico quali sono le interpretazioni che circolano è vero c'è anche questo aspetto alchemico di Caterina che è per questo forse questi cinque secoli di permanenza nel nostro immaginario sono anche legati a questa poliedricità questa possibilità di acchiapparci in mille modi di convincerci di legarci a questa figura in modi molto diversi l'uno dall'altro e qui torniamo però ad una rappresentazione molto molto dura molto torniamo a questa rappresentazione di profilo questo è una xilografia attratta da questa raccolta che fa il monaco Jacopo Foresti che se ho capito bene dovrebbe essere bergamasco se non ricorda male vero? ma lui l'autore del testo non è l'autore dell'axilografia no 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 d'accordo l'autore dell'axilografia non si sa esatto però questo Jacopo Foresti raccoglie questa fa questa questa raccolta tra le donne più importanti del periodo nel quale vive e naturalmente Caterina Sforza vedete qui è quasi proprio una condottiera siamo nel 1497 quindi da parecchi anni Caterina dall'88 abbiamo detto reggeva le sorti della signoria e la vedete reggere una sorta di bastone del comando scettro come lo vogliamo chiamarlo oppure poteva essere anche il mestolo col quale rimestava le sue pentoloni alchemici noi non possiamo saperlo e qui vedete che però la ripresa è secondo me poi Diego mi dirai anche qui la medaglistica il ricordo della medaglistica c'è perché è questo profilo con questo capo velato e questa leggera ripresa del velo sulla nuca c'è una parentela strettissima con la medaglistica la vedete anche voi ma non in senso padre figlio probabilmente c'è nel senso di cugini cioè sia la medaglistica che queste rappresentazioni incisorie questa xilografia nascono da un modello comune cioè guardano dei modelli che probabilmente non sono giunti fino a noi e probabilmente questi modelli sono proprio dei disegni ci sono delle cronache contemporanee c'è non mi ricordo insomma un corrispondente da Firenze che chiede a Machiavelli che sta a Forlì di fargli avere per favore un disegno un ritratto un'immagine di Caterina Sforza a un certo punto dice tipo come tanti ne stanno circolando tipo una frase del genere viene fuori che ce n'erano tanti di questi disegni che fermavano Caterina Sforza e probabilmente nasce da lì questa immagine corposa risulta un po' bella robusta è una signora un po' inquartata diciamo e questo apre un po' un discorso su quello che è bello o non è bello su come la figura femminile la bellezza sia il senso della bellezza l'idea di un gusto cambia ovviamente nel tempo niente di originale ovviamente però in questo caso la potenza di carattere politico e militare di donna Caterina forse si esprime anche in questo corpo così massiccio siamo nel 1497 circa è molto probabile che questa immagine sia abbastanza aderente al reale anche perché io vorrei leggervi un passo di un contemporaneo che parla di Caterina Sforza e guardate questa immagine perché ci ritroviamo un po' di caratteristiche scrive un suo contemporaneo Bartolomeo Cerretani dice e madonna savia et animosa quant'altra donna dei suoi tempi ella era grande complessa bella faccia parlava poco portava una veste di raso tanè con due braccia di strascino uno camperone di velluto nero alla francese uno cinto da uomo et scarsella piena di ducati d'oro un falzone a uso di storta accanto e tra i soldati a pie o a cavallo era temuta assai perché questa donna mai conobbe paura quindi insomma un'immagine contemporanea che già traccia no? con questo con questa xilografia ci sta no? questa questa racconto di una Caterina temibile no? quasi temibile è questo però Diego qua ti chiedo di questo è Marco Palmezzano qui siamo a San Mercuriale vero? a Forlì è una palla di ormai siamo nel pieno rinascimento qui siamo già nel inizio del cinquecento probabilmente un po' prima però perché se c'è la ci sono i due probabilmente no? sono Girolamo e Caterina stiamo facendo un leggero avanti indietro su questa cresta no? Riario ancora vivo Riario già morto Riario ancora vivo Riario già morto in questo caso questo questo politico meraviglioso di Marco Palmezzano che sta a Forlì e chiese di San Biagio ci mostra questi due offerenti no? guardate il particolare ai piedi della Madonna col bambino a destra a sinistra abbiamo una donna e un uomo allora noi non abbiamo documento non sappiamo con certezza chi sono ma molto probabilmente stiamo vedendo Caterina Sforza e Girolamo Riario attenzione notate un particolare uno che tutto ciò che vi ho detto fino adesso salta se c'è ancora Girolamo Riario perché lei ha il velo della vedovanza no? perché non dobbiamo ragionare con con i nostri i nostri parametri mentali questa molto probabilmente è un'opera una commissione fatta nel momento in cui muore Girolamo Riario e viene ricordato in questa immagine con Caterina Sforza che ha il velo della vedovanza che in effetti è un pochino più grande anche come proporzioni rispetto ho detto vice comis Caterina Sforza l'altro era il comis permettete che dovrebbe essere un pochino più grande non un pochino più piccolo perché è un'immagine ex post evidentemente non a caso c'è il reggente ci sono i due figli e quello accanto a Caterina Sforza molto probabilmente è Ottaviano il reggente e vedete quindi appunto che torna questo velo della vedovanza e torna non so se si percepisce bene dall'immagine il naso un po' importante via di questa donna quindi continuiamo a rimanere su questo su questo tipo di profilo andiamo a vedere questo tipo di profilo qui cambia ancora qui siamo a giochi fatti siamo già a 500 la data del 500 l'abbiamo già superata quindi Caterina è già a Castel Sant'Angelo e poi credo a breve ritornerà a Firenze lei viene fatta prigioniera da Cesare Borgia viene portata a Roma è un trofeo naturalmente perché una donna così importante una donna potente riconosciuta come indomabile che viene fatta prigioniera viene portata a Roma e viene rinchiusa a Castel Sant'Angelo poi lei riesce ad ottenere di riunirsi con la famiglia Medici della quale faceva parte perché aveva sposato Giovanni II e qui siamo in fa parte nella grande ritrattistica di famiglia dei Medici insomma non a caso entra nella Galleria Palatina di Firenze è proprio questo il punto qui assistiamo a diciamo un passaggio che vede Caterina diventare altro essere far parte appunto della grande famiglia toscana è un dipinto molto elegante come vedete qui ovviamente si perdono tutte le durezze della medaglistica e dell'incisione e si acquista la piacevolezza della pittura nel senso nel suo senso più alto è un profilo quieto non c'è più un furore come nella piccola psicografia che abbiamo visto prima lei tiene in mano una piccola lettera no? tiene in mano un cartiglio e guarda verso un futuro che forse non è più quello di grande conquista ma è quello di una quiete e di una speranza di pace diciamo vado avanti eh? vado avanti perché arriviamo ad un episodio veramente che consacra Caterina Sforza all'interno del mito posso dire una cosa prima che continui da queste immagini cominciamo a uscire dal mondo di Caterina Sforza dalle immagini che lei voleva tramandare di sé e cominciamo a entrare nelle immagini invece che la storia raccoglie quello che avviene dopo è vero perché qui siamo già al 1556 questa è a Palazzo Vecchio la stanza diciamo la sala dedicata a Giovanni dalle Bande Nere che era figlio di Caterina Sforza e di Giovanni II Popolano vedete che qui anche qui Caterina ha sempre il nostro capo coperto con questo velo bianco in genere hanno veli anche molto trasparenti qui invece ha quasi la consistenza del cotone no? sì ma c'è anche un compiacimento virtuosistico del pittore qui c'è chiaramente Giorgio Vasari questa ma non alla Michelangelo che sembra no? sembra insomma il Mosè sembra no? la mano del Mosè sì è vero è vero è vero e poi bisogna pensare che è inserita all'interno di una struttura decorativa che in qualche modo doveva equilibrare no? per essere vista e qui vediamo come questa figura di Giorgio Vasari si scontra invece con un altro dipinto molto particolare avevate visto il dipinto di Vasari ve lo ricordate vi è capitato di vederlo sicuramente questo si vede molto meno anche qui siamo agli uffizi addirittura è un pittore meno celebrato di Vasari questo Lorenzo Vaiani che però con Vasari lavora vedete che il tratto è un tratto meno elegante un po' più meccanico e qui vengono rappresentati Giovanni De Medici detto il popolano e la moglie Caterina Sforza li vedete tutti e due anche qui con dei gesti abbastanza riconoscibili Caterina che stringe in mano questo fazzolettino e lui che stringe una lettera sono un dipinto poco significativo forse dal punto di vista artistico artistico forse lo è più dal punto di vista documentario andiamo avanti qui abbiamo già avarcato il 600 pieno che racconta poco Caterina Sforza il 600 me ne sono chiesta come mai questo momento di intervallo nel raccontare il mito di Caterina probabilmente insomma c'era un declinare dell'aspetto così di una femminilità così importante probabilmente era quello vedremo che riemergerà 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 qui siamo nel 700 questa è un'altra medaglia e questa è una Caterina un po' adulta grande in bolsita con questo mento un pochino sporgente un personaggio di cui si una matrona che viene raccontata in questo caso Caterina Sforza ma anche qui una Medici una Medici Sforza Medici vengono ricordate le due e guardate come a mio avviso il significato ben preciso del velo che aveva nella medaglistica contemporanea di Caterina a mio avviso si sta perdendo cioè successivamente non ha più un significato ben preciso ma semplicemente è entrato nell'iconografia di Caterina Sforza cioè Caterina Sforza la riconosci perché è quella con questo velo e quindi la riconosci subito sì perché perde l'apportato simbolico viene impoverito e diventa semplicemente un aspetto iconografico vediamo che non sono vado un po' più veloce questa è la cera modellata su Ardesia da cui poi viene ricavata anche la medaglia qui è molto molto analitico no? guardate che ha questo pendente al lobo e ha questa camicia di cui si vede il legaccio molto ben molto ben delineato vado avanti se no non finiamo più questa è la medaglia che se ne ricava e qui c'è anche il retro questo è il biscione degli Sforza questa io l'ho messa Diego anche se è una cosa un po' particolare che io devo dire avevo visto ma non avevo mai approfondito è un oggetto di grandi dimensioni fra l'altro è alto quasi due metri quindi una cosina impegnativa qui siamo a Firenze la manifattura di doccia è quella della Ginori che nel 1750 realizza per regalare all'Accademia Etrusca di Cortona ed è ancora lì anche perché credo che sia difficile spostarlo questo tempietto chiamandolo il tempietto Ginori ma in realtà è un tempietto del tutto dedicato alla gloria della famiglia dei medici e Caterina qui io non sono riuscita a trovare un particolare ma spero vi fidiate compare in uno dei medaglioni che sono alla base di questo tempietto e come vedete ce ne sono tanti sparsi e trionfa soprattutto questa figura della fortuna curiosità in questo piccolo cammino è col velo o senza è col velo perché riprende Vasari pari pari è un oggetto molto curioso molto curioso è ceramica di grande di grande qualità sono molto curiosa Andrea Cortona a vederlo questo perché non lo conoscevate mai visto e qui siamo tornati a Imola perché qui siamo nella iconoteca degli illustri Cimolesi che si trova adesso in biblioteca e qui vedete che l'ignotto pittore riprende pari pari il dipinto di Vasari che si trova a Palazzo Vecchio lo traduce con un linguaggio pittorico forse più ingenuo per certi aspetti però rispettoso dell'originale non c'è molto da dire credo se non che tradisce un pochino il suo tempo sì siamo dall'ottocento perché qualunque pittore che vuole copiare un'epoca del passato e un'opera del passato e lo vuole magari copiare pedissequamente inciampa su errori inconsapevoli perché lui ragiona con la testa del suo tempo e probabilmente lui non si è reso conto che ha fatto uno sguardo troppo dolce e troppo romantico a questa immagine traducendo il Vasari che invece era una donna ancora abbastanza arcigna perché siamo nell'epoca alle porte del romanticismo alle porte probabilmente qua Caterina comincia a diventare quel mito romantico che poi vedremo vedrai dopo vedremo dopo e io questo l'ho inserito qui poi dopo tu ne parlerai in finale di partita ma l'ho inserito ad onore della cronologia che avevamo scelto di utilizzare il dipinto è qui lo potete poi vedere meglio ovviamente dal vivo questo è questo pittore ritrattista Dario Gobbi che realizza per il premio USSE a Firenze questo grande dipinto che si intitola intitolandolo La Preda Caterina Sforza fatta prigioniera questa è Caterina tra due armati del esercito di Cesare Borgia che viene tradotta verso Roma a Castel Sant'Angelo ma ci torniamo dopo a chiusura che vado avanti perché era solo per rispettare la cronologia e questo è Bernardino Boifava ceramista e scultore in bronzo queste sono le formelle bronze a Palazzo Romagnoli a Forlì qui c'è una Caterina piuttosto volitiva anche qui vedete il ricordo come diceva scusa come diceva tra i soldati a pie o a cavallo era temuta assai infatti lì dietro c'è una corte di armati e dietro la quale vediamo il profilo della Rocca di Iravaldino sembrerebbe la nostra mai quella di Forlì esattamente anche perché le formelle vennero fatte per Forlì e quindi campanilismo vuole non possiamo difendere no andiamo avanti questa io l'ho messa perché l'ho trovata delizioso questo è un dramma di Sem Benelli Caterina Sforza che viene edito nel 1934 e illustrato da questo disegnatore che si chiama Eugenio Colmo detto Golia io ho trovato questa posa molto musoliniana non so se se è un eccesso è stata la premessa che ho fatto no? guardate cosa si va a cogliere in base all'epoca storica però la trovo fra l'altro presa vedi da sotto in su con questo effetto di gigantismo sì è così è così le braccia sì sì ci sta ci sta però trovo che sia stupendo io ci ho messo proprio tutto perché volevamo anche un po' divertirci cosa dite qui siamo nel 1959 e il mito di Caterina non poteva non transitare no? in pellicola al cinematografo e viene girato questo film da questo Giorgio Walter Chilli che io non so cos'altro abbia fatto come regista ma forse solo mia ignoranza Caterina Sforza Leonessa di Romagna dove Caterina viene impersonata da questa giovane e bellissima Virna Lisi che ha tutte le caratteristiche fisiche appunto di una pin up degli anni 50 vi faccio notare una cosa guardate come dal 900 il velo cade cioè per la nostra sensibilità no? anche per la volontà dei nostri tempi di ricordare Caterina Sforza non è più calzante la sua immagine col velo no? qui c'erano proprio le necessità di far risaltare la particolarità e la bellezza dell'attrice quindi ovviamente giustamente è così ma è così non l'avremmo capito non l'avremmo capito vado avanti e arriviamo ancora più vicino a noi diciamo qui siamo alla deriva pop di Caterina se posso permettermi questo questo termine io non so quanti di voi si dilettino con i videogiochi non lo so però Assassin's Creed è un videogioco molto famoso che è francese è stato prodotto tra il 2010 e il 2011 in una di queste di queste avventure di Assassin's Creed compare anche Caterina Sforza e qui Michelle Thibault il disegnatore ci presenta diciamo il modello sul quale poi Caterina viene animata se andate su YouTube si trovano dei filmati con la nostra Caterina le prese con 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 fateci caso come dal novecento in poi ecco è stato come un un discrimine no un a un certo punto non interessa più cercare di far rassomigliare l'immagine a quello che doveva essere il vero volto di Caterina Sforza non interessa più l'abbiamo visto da Dario Gobbi che poi ci torniamo per tutto il novecento l'immagine del 34 questa il filmato la leonessa di Romagna bionda addirittura cioè nessuno si preoccupa più di voler rappresentare il velo volto di Caterina Sforza significa che Caterina Sforza diventa un'icona un'icona che parla all'oggi con i codici di bellezza e di comunicazione dell'oggi questa è la giovane donna bella e forte che è esattamente il mito dei nostri giorni no? tu guarda scusami adesso guarda la silhouette no? di questa figura elegante è una fotomodella aspetto all'axilografia che abbiamo visto di donna corposa come probabilmente questa è una pagina di Vogue no? va davanti perché non abbiamo finito signori perché il mito continua sia nel 2011 questo è uno sceneggiato che è andato in onda credo poco tempo fa qui in Italia che si intitolava I Borgias come potete vedere dalla locandina e questa è l'attrice che in persona Caterina io ho isolato anche la famosa il frame dove lei si sporge sulle mura della rocca di Forlì dicendo al Borgia che la intimava di uscire altrimenti avrebbe ucciso tutti i suoi figli ho qui mostrando le pudenda da farne altri e questo episodio ha molto colpito evidentemente viene tramandato vado avanti perché non abbiamo finito poi chiudo e compare anche una Caterina Sforza nel sceneggiato televisivo dei Medici addirittura 2019 è una serie che ha coperto questi anni dal 2016 al 2019 qui è veramente ormai siamo alla starlette televisiva no? ormai chiudo del tutto Diego spero di far bene sì no tornando a a Dario Goppi chiudiamo questo questo cerchio tornando a questa immagine che vedete qui che non torniamo solo perché è qui perché come vi dicevo a mio avviso da quest'epoca da questo dipinto cambiano un pochino le cose come avrete intuito nel racconto nel tramandare l'immagine di Caterina di Caterina Sforza cioè da questo momento in poi intanto non è una regola matematica ma tendenzialmente cale il velo non interessa qui c'è ancora nel senso che ma è leggerissimo è una cosa no? proprio quasi impercettibile da qui in poi cade il il velo ma c'è un'altra cosa più interessante siamo intanto nel 1914 guardate i tratti fisiognomici di questa Caterina Sforza è evidente che non c'entra niente con quello che doveva essere la vera Caterina Sforza è evidente Dario Gobbi era un grande ritrattista era veramente apprezzato come ritrattista poi una vicenda straordinaria nato a Fieso in realtà da una famiglia di Reggio Emilia presto va a far fortuna in Sud America e diventa un grande ritrattista in Sud America lavora molto come ritrattista un fan prodigio inizia molto presto a fare ritratti e si vede che è uno che è bravo a fare ritratti questa è una ragazza vera del 1914 questa è la sua modella ok i tratti fisiognomici sono quelli della sua modella ma in un certo senso forse questo è il vero volto di Caterina Sforza perché avete visto anche dopo come diventa un'icona Caterina Caterina Sforza un'icona di che? di alcune caratteristiche chi è? è la donna forte è la donna che tiene testa anche agli uomini austera non è esattamente così in questo primissimo piano no? di questa Caterina Sforza in questo momento siamo nel 1914 Dario Gobbi è veramente un bravo ritrattista ma diciamo che è un po' fuori tempo massimo cioè è ancora tratto da una visione della pittura dell'arte un po' tardo romantica sicuramente ottocentesca ancora per certi aspetti no? sì certo anche per la tematica cioè questo romanticismo questo tardo romanticismo intanto che come tematiche cosa tira fuori? tematiche storiche soprattutto è un romanticismo che va a ripescare a ravanare nella nostra storia medievale è nell'ottocento che si ripescano si riabilitano tanti personaggi tante situazioni e tante immagini medievali perché sostanzialmente il culto è il mito della nazione no? poi diventa il mito della nazione si è individuato nel medioevo di Dante nel medioevo di Giotto in quel periodo lì le radici della nostra nazione italiana e quindi si torna spesso su temi storici su temi medievali perché se ci pensate Dario Goppi no? che è di Reggio Emilia lavora una mezza vita in Sud America rientra per un attimo in Italia va a Firenze partecipa a un concorso di pittura perché mi fa Caterina Sforza? non era un concorso disegnatemi di Caterina Sforza decide di evidentemente era una tematica perfetta no? per la sua sensibilità ecco la sua sensibilità che era tardoromantica e non è solo la tematica che è tardoromantica è anche il suo approccio alla raffigurazione di Caterina Sforza il romanticismo cosa ci ha insegnato? dire più che l'invenzione forse sì la scoperta o la riscoperta del sentimento il sentimento qui viene fuori il sentimento l'umanità di Caterina Sforza allora nel momento in cui Dario Gobbi deve fermare nel dipinto quello che accadde il 12 gennaio 1500 quando Caterina Sforza la leonessa di Romagna che resiste strenuamente come una vera leonessa sulle mura del Rivaldino e poi viene catturata dai soldati di Cesare Borgia quello è il momento della cattura quel momento lì lei non è una leonessa tradisce un momento di paura probabilmente di umanità anche probabilmente di intimità femminile cioè di incertezza di tradisce comunque una debolezza e questa è una grande novità rispetto a tutto quello che abbiamo visto fino adesso ed è guardate una particolarità del romanticismo Dario Gobbi arriva un po' tardi nel 1914 ma forse abbiamo messo anche un'immagine i suoi riferimenti culturali sono 70 anni prima questo è Hayez no la malinconia guardate Hayez anche nelle sue allegorie tornerà spessissimo nell'indugiare in queste espressioni di pianto di paura di inquietudine eccetera e quello no? era l'orizzonte di Dario Gobbi assolutamente e questo io se l'ho sempre immaginato come uno sguardo di sgomento io la reonessa di Romagna che ora sono in questa situazione di cattività no? ma non ho più l'occhio della fiera legata sono una donna come dici tu spaventata spogliata da mille cose e probabilmente io penso ci vedo anche uno sguardo di solitudine in quel momento lei è sola è vero anche perché probabilmente questo non è non è stato stabilito dalla storia la caduta di Ravaldino era frutto di un tradimento e quindi di un tradimento di uno dei soldati che stavano nella guarnigione quindi sì la solitudine doppia no? perché sei stata abbandonata anche dai tuoi soldati e quindi come provocazione vi dicevo questo forse niente di più distante dal vero volto di Caterina Sforza questo dipinto eppure da un certo punto di vista forse questo doveva essere il vero volto di Caterina Sforza quello che neanche Caterina Sforza stessa ha voluto tramandare i poster quello no? sì sì sono d'accordo assolutamente perché è davvero il volto di una donna che sentiamo vicino a noi insomma è così noi avremmo finito questa carrellata siamo disponibili anche a qualche domanda grazie il dipinto è nella sala accanto nel caso qualcuno fosse interessato a riguardarlo a rivederlo alla luce anche delle cose che Diego vi invito a farlo perché guardate è un artista che non è grandemente considerato eppure questo pezzo che non a caso ha deciso di presentare al premio Ussi e non a caso in una testimonianza noi abbiamo una testimonianza scritta di un autore che ricorda una visita nello studio di Dario Goppi e racconta questa visita al pittore la prima cosa che dice che entra nello studio di Dario Goppi e nel suo studio campeggia questo meraviglioso dipinto lui dice di secondo me anche leggendolo male perché dice questo grande dipinto con una Caterina sforza altera e dignitosa forse dignitosa sì però altera mica tanto fu per Goppi questo un dipinto fu drammatica la situazione legata al dipinto perché lui viene rifiutato dal premio Ussi con quest'opera e la cosa non passerà mai diventerà il suo scacco professionale per sempre e probabilmente come dici tu era passato il tempo per presentare un'opera di questo tipo è vero vivendo troppo tempo in Sud America non aveva forse percepito che qui un ritratto seppur meraviglioso come questo rispetto a dove stava andando l'arte nel 1914 era fuori tempo massimo pensate quattro anni prima era stato pubblicato il manifesto del futurismo quindi questo dà un po' le coordinate di quello che stava accadendo nella vita culturale del paese è vero ma i capelli biondi erano il massimo della bellezza per cui lei dà la ricetta per sbiondire i capelli chissà può darsi questo non non lo sappiamo è vero è vero sono ricette molto particolari io sconsiglio a tutti di provarle bene se non ci sono altre domande ci vediamo al prossimo appuntamento grazie di essere venuti tutti quanti ripeto lasciamo un pochino la possibilità di guardare il dipinto a tutti buona serata e a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti